Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Ghostware con Iago Rollo Ti accetto come amico Mi sta accettando Basta Le battute più tristi del mondo Comunque ragazzi siamo a fare Lucky Wars Sono uscito anche ieri dovevo fare Sky Wars Ma per vari motivi ho deciso di non portarle oggi Forse le vedrete domani non lo so Ma comunque siamo qui per fare le serie Volete sapere il motivo? Volete sapere il motivo? Eh non ve lo dico Eh non ve lo diciamo 3,2,1,via Speriamo di essere la solita Ok sì perfetto siamo nella stessa Ma che cazzo è? In quella delle teste Attento che qui io faccio sempre un errore gravissimo Ovvero vado al centro Vedi che c'è un blocco Esatto la TNT Ecco ti sparano con l'arche esplosivo Esplodi Quella lì è una bomba Una bomba gigante più o meno Comunque la prima cosa che devi fare qua E scavarti sotto il blocco Hai capito? E se Esatto esatto Perché qui la prima cosa che fanno È bersagliarti con tipo le peggio cose E se ti bersagliano No la droga È buona Dammi un pochettino Se ne hai trovata tanta Iaco Comunque no effettivamente Fidati fallo perché ti conviene Almeno non ti uccidono subito Comunque io ho trovato l'armatura in pelle Che Boh Ripeto Meglio di niente Qua invece ho trovato Cosa? Oh Gravità zero Ah buono buono Ok Allora affilatezza aumenta più della spada in diamante Affilatezza fa 1,25 in più Quindi se è in Oh mio Dio Chi mi picchia? No nessuno Se è in cosa? Come cavolo si chiama? In Ferro Fa più della In quella di diamante Sì Ma poi scusa ci vai super con il cursore del mouse Dovrebbe dire il danno Non te lo dici a te? Allora 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 Eh non ho fatto caso Comunque Cosa facciamo? Guarda che se te in verità che dici cosa facciamo Perché io sono già al centro Che sto prendendo le mie belle cose Ma come fai a essere al centro? Sei tipato uno No 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 Lezzo 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 Ok Oddio Come come? Devo mangiare subito? Se non mangio subito sono morto Cavolo Ok Ok Dici che quello là c'è l'arco? Non lo so E sinceramente non voglio nemmeno scoprire le certe cose Allora C'è uno che sta cercando di venire al centro Mica si dì Ah io sono Ah sei te madonna Giacomo stai attento Ah quella accanto a te era morto eh Può che quello là giù è a gravità zero Non riesco a buttarlo di sotto Quello là giù forse sì Vediamo Dai 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 Sì Sì Oddio Oddio mio Oddio mio Giacomo No 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 Ho messo il cartello Sei morto? Ho messo il cartello invece dell'Ender Pearl Si aveva le palle di neve esplosive oddio Ok ragazzi seconda partita speriamo che questa volta ci vada un pochettino meglio di prima Perché effettivamente no vabbè ora c'è da dirlo E' stata colpa mia che a parte sono stato un po' sfortunato forse anche lì Perché effettivamente ho trovato quello lì che mi ha tirato tipo le cose addosso e quindi Ah tu in che mappa sei? Cioè in che cosa sei? Isola? Isola di con l'albero come si chiama? Tropicale Ok tropicale quindi accanto c'è quella della neve o no? Fammi vedere aspetta perché Perché se c'è quello della neve accanto devi scappare il più velocemente possibile No quello della neve è in fondo Metano tu c'è quello del deserto sei vicino a me Si 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 Tu c'è quello dell'Ender Vediamo cosa ho trovato gravità zero Gravità zero eh Va guarda guarda a me ne è andata anche abbastanza bene perché ho trovato D'armatura è un po' schifo però per il resto sono messo abbastanza bene Spara in diamante Ehm Ender per Fate E ho trovato qui Lo spara panzai che è abbastanza potente Lo spara panzai Allora ti dico una cosa Su questo che vuoi aver qui non so se lo sai Tutte le pare di neve sono esplosive Quindi quello laggiù che sta nella map Ma io ci vado Da quello che sta nell'isola della neve Lo uccido No no Iaco cosa fai? Cosa? No non sono stato io Ok ok Provo a ucciderlo in qualche modo Ma c'è? Ma non c'è? Ma non c'è tutta la sua roba qui Non ha preso nulla Questo qui è uscito Ma Iaco ma Ma che Ah che grande Questo qui mi ha dato la cosa Che culo Quindi mi sono tippato subito da uno E non ci ho nemmeno fatto tipo la figurina di merda A metà 9 Ma tu dici che non ti tippi da nessuno E poi ti tippi Ma quanta roba mi sta dando Questo uomo qua Oh Oddio Oddio ho trovato tutto Ho trovato Tipo il mondo ho trovato eh Allora Vabbè però Ho tutto l'inventano incasinato Porca puttana Ok Tu ma cosa stai facendo team con qualcuno Non ho capito Sì sto facendo team con questo qua Mi ho dato tutto Grazie Ma è un lezzino O una persona a modo? Eh Una persona a modo No Che spada hai? Che spada hai? Ho una naccetta Ah quindi Quindi non hai la spada in diamante No Vabbè peccato Ma siamo tutti in game? Sì ma in teoria Uno ha quittato Quindi lo segna ancora vivo E all'ultimo bisogna fare pvp Anche se effettivamente Comunque allora Io ora mi faccio una crafting table Perché qua Posso avere Ho la vittoria io qua Tu devi capire che io sono full diamond Non l'ho shoppato E se è chiaro l'ho trovata E praticamente Oddio non riesco a craftare una palla E praticamente se ora mi faccio la palla Sono l'unico ad avere Palle di neve esplosive Infinite oltretutto Quindi farti capire La vittoria easy Che poi non è una vittoria easy Perché è un vantaggio enorme Ma non è detto che sia vinta Perché potrebbero spaccare Cioè le palle Puoi colpire quello lì vicino a te Quello che è al meta Quello della mesa Della mesa Cos'è la mesa? Quella Ah lui Sì 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 Bombartelo che mi sta colpendo Grazie È morto è morto Perfetto Allora Poi cerco di uccidere Ma quello cantame che c'è Tipo tutta la lava Che cavolo fa? Vabbè facciamolo esplodere male Ok È morto Ma con un colpo è morto Tipo gli hanno tirato i 20.000 Però è morto col primo Vabbè Perfetto Yaku Siamo rimasti anche in pochi E io veramente Ho quasi paura Fossi in te avrei paura Veramente Cioè Ma ti rendi conto di come sono messo? Dio Prendiamo No Che cavolo sto facendo? Ah comunque raga Avevate ragione Quando avevate detto Tipo che la neve sotto le foglie è buggata Non ci avevo mai fatto caso Beh è una lezzata comunque È una lezzata Allora Io qua devo farmi però Un qualcosa tipo Ok Un qualcosa per salire Yaku tu Come sei messo per ora? Giusto per sapere Oddio Ok Io più altre palle Yaku ci sono Perché sono tanto belle Che ovviamente Non pensate a doppi sensi Ragazzi Non sia mai Tipo Comunque allora Tu sei Sei sempre nell'isola laggiù O tipo ti sei spostato No no sono al centro Ok sei al centro Allora sei al centro Sei al centro Full diamond anche te Buono Buono E mi dici dove stanno gli altri Che non li vedo sinceramente Uno è sull'albero Uno sta facendo una coppia con me Scusa che albero Non capisco Quell'albero là Nanto Quello là Tutto circondato Tutto circondato Ah Mi dici se Mi dici se ci arrivano le cose Le palle Laggiù Vai Più su Più su Più su Vanno giù Gli hanno distrutto a base sotto E lui è nell'albero Più su ancora No dentro Ah ok capito Capito Aspetta 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 Dovrebbe arrivare così No cavolo Ma li distrugge No non ci arrivano Non ci arrivano C'è poco da fare Le spero che basta Così non Non conviene Tu non riesci a farci nulla Con lui Perché io qua sto prendendo Veramente un bordello di palle Però tipo l'ho quasi finita Quindi Non è che ti ero tipo Infinite veramente Era un modo di dire infinite Perché tipo No Devo fare un'altra pala Cavolo E vabbè Ma tanto ce l'ho la roba Sì ok perfetto Jaco Ma tu ce la fai veramente A fare un ponte Un qualcosa Ce la fai o no Perché sennò sei un po' inutile No 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 ma io sono al centro Aspetta adesso ho trovato le palle di neve Appunto Non riesci a fare un ponte Per andare da lui E spaccargli Non lo so che sei al centro Per questo te lo sto chiedendo Cioè non è che ti chiedo le cose A caso Jaco Rollo Capisci Dai Io Ma tu quanti ne hai di palle Giusto per sapere Ovviamente tu dirai due Haha Molto spiritoso Però seriamente quante ne hai Ok lo stavo buttando L'ho buttato No mannaggia Mannaggia proprio Cos'è successo Ok Io veramente non so Sono qua Oh ma quello che sta venendo da me Il tuo tipo che fa team Io lo uccido Io lo uccido Io lo uccido Ciao E vabbè E vabbè Uno in meno Uno in meno Non ho mai detto che avrei fatto team con lui Sia chiaro E' vero qua c'è un blocco Ma gli altri dove sono ragazzi Cioè Quanti Quanti gente c'è ancora viva Allora Considera che uno ha quittato Quello là Allora qua c'era un tipo che ha quittato Lì l'abbiamo ucciso La giù c'ero io La c'eri te Quello davanti qua l'ho ucciso Quindi ne rimangono due in teoria Ok Uno dove c'è la lava Ne segna tre vivi Ma ti spiego il motivo Uno è un bug Perché è uscito Quello della neve Poi quello dove c'è la lava l'ho ucciso Ti manca quello dove è tutto bardato E quello accanto Ok Tu quello dove era tutto bardato Te l'hai ucciso No quello della mesa No quello bardato è tutto là infatti Aspetta Ok e quello accanto verso la lava Ma tra la lava e quello tutto bardato L'hai ucciso o no Quale è quello bardato Senti mi fai una torretta al centro Ah quello là No aspetta Ah no ho capito ho capito L'ho visto forse Fammi una torretta A modo però eh Alta Alta Iaco Molto alta Vabbè cazzo Ci provo Ci provo Ci provo Ok ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Incredibile Allora nel dubbio Mi piglio altri due underpearl Allora guarda Ti spiego chi è rimasto Allora Laggiù dove c'era Il coso del nether Oh laggiù davanti No il nether è quello che ha ucciso adesso Ok ok Allora rimane quello lì dove c'è il Ma ci sono dei blocchi qua Sì ok perfetto Allora comunque rimane quello dove Dove è tutto bardato E poi Il deserto eri tu vero? Sì esatto Te lo spiego aspetta Quello tutto bardato è quello a sinistra E se a sinistra è morto Cosa che penso effettivamente sia successa Quindi Mi ci tippo Aspetta un attimo il controllo Ragazzi siete veramente lezzi eh Ok no no Ok questo qua Ok no guarda È tattica è tattica questa qui Guarda ora cosa faccio Lo butto di sotto Anzi no Le tiro tipo le peggio palle Guarda Ora risponde tutto Guarda Sbam Ok ora ce la facciamo easy eh Guarda un pochettino Esplode Oh è su un blocco Ma ci vuoi morire Ok Colpito Iaco Come fa Come fa Ma l'ho colpito Guarda è ancora lì Non ci muore mai questo Dio mio Ora le tiro il Cristo Oh l'ho ucciso Iaco ecco Ora siamo rimasti io e te Anche se ne segnavano i due vivi Siamo rimasti io e te Ok Quindi penso sia arrivato il momento Di fare il big duello Iaco Che parte ovviamente sin da subito No 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 Oddio ma ero io Come stavo vogliono esplodere l'isola Oddio che cazzo è No qua c'era uno Qua c'era uno Oh mio dio Oh mio dio Iaco Iaco qua c'era Fermati fermati Iaco Fermati non vale Iaco Fermati C'era uno qua Oh mio dio Ma te l'ho detto che non erano i bug Che mancavano due Scemo No l'ultimo è veramente un bug Ma cazzo Io per sbaglio ho tirato Non so se l'ho tirato io L'ho tirato noi Ma scemo L'hai detto anche tu Che eravamo rimasti in due Sì sì cazzo ma Oh mio dio Ma questo qui era seppellito sotto l'isola Devi capire questo E io non capivo più nulla Oh mio dio Iaco No 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 Lezzo Schifoso proprio Muorici tantissimo Iaco ci devi soltanto morire Sono caduto Davvero? Eh sì Si è bucato il pavimento Ma no sei ancora vivo Iaco guarda che non mi prendi pericolo Guarda che sono in home Sono nella hub Iaco non è vero Iaco non mi prendi pericolo Non lo garantisco Iaco non mi puoi prendere pericolo a me Vabbè Siamo qua così Ti aspetta nella hub Iaco non è vero Sei per forza al centro Ma sono caduto C'è un buco enorme Iaco ma cosa No Ho filato l'enderpearl Ma che cazzo Ho filato l'enderpearl No Ho filato l'enderpearl Ragazzi la strategia è lezzino Non è la strategia Ho filato l'enderpearl Ho filato l'enderpearl Ma tu sei venuto a cercarmi Si va bene In effetti ha funzionato Ok ragazzi Ultima partita Speriamo che ci vada bene Purtroppo Iaco Rollo ha fatto il lezzissimo In modo brutale prima E E se è chiaro Ha avuto anche molta fortuna Perché effettivamente Io che failo l'enderpearl In effetti mi si vede spesso Ricordiamo che ovviamente loro non lo sanno Ma sto di merda Sto registrando e sto di merda Quindi oggi non usciranno video sul mio canale Ho fatto spam Si spamma Si spamma Ho fatto lo spam Eh vabbè Eh vabbè lezzino Si sapeva Comunque Ceste vuota Speriamo che questa sia piena Ah ok Qua c'era la roba perlomeno Io sono messo Male Eh io non c'ho No anzi in verità sono messo bene Perché ora che ci penso Ho trovato l'armatura OP Cavolo Quindi ora Trovo Provo a cedere subito uno Vabbè speriamo Ok ce l'ho fatta Mi sono Non l'ho Ah non me l'ho dato la kill però Vabbè Jacopo Tu che fai Io vado al centro Anzi in verità ci sono già Cioè Lasciamo stare Le mie lezzagini Comunque ok Ho trovato una spada migliore della mia Delle mele dorate Che una la mangio subito così Mi porto un pochettino in vantaggio Ok ho trovato un po' di cose interessanti Tu che vuoi fare Vuoi venire o no? Giusto così per info Eh Il problema è che c'è uno Che mi sta bombardando Ok No 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 Non ci morire Non ci morire Dimmi chi sei Saltella Fammi vedere Fatti riconoscere in qualche modo Full diamante Cazzo full diamante ti lamenti Ma che cazzo vuoi? Da che partiti Stiamo bombardando Oddio Tirano cose anche a me Ah quello è l'arc esplosivo Cavolo Ok Ce l'ho fatta schivare tutto Ok lui Ah easy kill No no non gli farei nulla Jacopo madonna Aspetta aspetta Non lo devi colpire Devo colpire io Ok Ciao Ciao Salutami l'inferno Salutami l'inferno Ok qua ho preso un po' di roba interessante Senti Ce la fai venire o no Ora Attento che c'è uno che ha l'arc esplosivo Eh lo so Ah no ma si sta prendendo con il full diamante Cioè con il full limoncino Eh io sono full Eh no sta puntando a me Sta puntando a me Cavolo aspetta Provo a salvarti Mi prendo la cesta trappola qui La cesta trappola che metano sa come evitare Quindi incredibile Like anche per questo Comunque Cazzo lo sto buttando giù lo stavo Aspetta io qua Aspetta io ho le cose esplosive Lui in teoria di armature ha messo anche quasi decente Ma non dovrebbe Oh ti sta ammirando Ti sta ammirando Si si ho visto Piene se le prende Tutte piene se le prese Però non l'ho fatto nulla Bellissimo Senti io qua apro tutti i lucky block Ok Dai fulmine Non gli ha fatto nulla Cazzo No il buco C'era un cazzo di buco Eh il buco Ti chiedo Sono sceso tutta la appa intera Un buco lì Io ci sono caduto come un coglione dentro Vabbè dai Il buco ragazzi Come le abbiamo perse le parti ragazzi Soffermiamoci sul fatto che io Si è caduto in un cavolo di buco Sì E sul fatto che Abbiamo failato E quella prima Eh quella prima le ha perse perché veramente Cioè Veramente ragazzi I livelli di lezzaggine assurdi Comunque Sto lasciando questa piccola cosa Che poi tanto piccola non è Eh Il canale ovviamente di Acorolo Lo trovate in descrizione Ovviamente Spero che il video vi sia piaciuto Ed ciao a tutti Ciao ragazzi Buona serata E buon appetito Ma che cazzo Non lo so Voglio cambiare un po' il saluto Grazie a tutti Grazie a tutti